Nel video di oggi vediamo come importare ed esportare tavolozze e colori nel nostro documento di Affinity Designer. Intanto andiamo nel nostro pannello campioni che si trova qui a destra del pannello colore. Nel mio pannello campioni, come già sapete da altri video che ho realizzato, avete varie tavolozze e colori. Alcune tavolozze che voi vedete qui sono tavolozze che erano già presenti quando io ho scaricato il programma e altre le ho create io. Per sapere come creare nuove tavolozze e colori e personalizzarle, aggiungerci i colori che volete, eliminarli, modificarle, ho già realizzato dei video a riguardo dove lo spiego. Oggi però voglio farvi vedere come posso importare una palette che ho già realizzato in precedenza. Per farlo, dal mio pannello campioni, devo andare qui sul menu a destra e si apre questo menu e devo andare in fondo. Vedete qui dove c'è importa tavolozza. Importa tavolozza io la posso importare come tavolozza applicazione o come tavolozza documento. La differenza tra le due è che la tavolozza applicazione mi salverà la tavolozza su tutti i documenti di Affinity Designer. Cioè ogni volta che io poi aprirò Affinity Designer io avrò sempre salvata quella tavolozza. Se invece la importo come tavolozza documento, quella tavolozza sarà solo su questo documento. Quindi poi se aprirò nuovi documenti io non ritroverò quella tavolozza. Io ora la importo come tavolozza documento perché essendo una prova per farvi vedere non mi interessa poi salvare questa tavolozza su Affinity Designer. Quindi clicco qua sopra e mi si apre il pannello insomma dove posso andare a cercare la mia tavolozza. Io l'avevo già salvata sul desktop e qui la vedete. Clicco due volte e vedete che ora compare qua. E io ho importato così la mia tavolozza documento. Se io clicco qui sul menu e vedete che io ho tutte le mie tavolozze, vedete che la tavolozza documento è segnata appunto da un documento bianco. Mentre queste altre che vedete che sono indicate con l'icona di Affinity in nero sono le tavolozze applicazione. Quindi sono quelle tavolozze che io mi ritrovo sempre ogni volta che apro Affinity Designer. Questo è come importare una tavolozza colori. Ora vi faccio vedere come esportarla. In che senso? Io ho una mia tavolozza colori e magari la voglio condividere con qualcuno. Ad esempio vado a prendere la tavolozza che si chiama Francesca Gimelli. In realtà c'è un colore solo ma non importa. Io ad esempio voglio passare a qualcuno di voi questa tavolozza colori. Cosa devo fare? Vado sempre sul mio menu qua a destra e vado qui su Esporta tavolozza. Mi si aprono le mie cartelle del computer. Scelgo dove salvare la mia tavolozza che come vedete si salva con l'estensione AF Palette. Salvo. E mi si sarà creato il file nella mia cartella. Posso anche farvela vedere, riduco ad icona. Così vedete il mio desktop e vedete che io qui ho i miei file. Io quindi posso semplicemente poi inviarvi il mio file e inviarlo alla persona con cui io voglio condividere questa palette. e questa persona con importa la tavolozza come vi ho fatto vedere prima potrà semplicemente aggiungere quella tavolozza colori al suo documento o all'applicazione intera. Se non sapete come fare a creare tavolozze colori vi consiglio caldamente di andare a vedere i video dove l'ho spiegato bene come fare. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.